... Abbiamo scelto di ballare la pizzica per il suo significato oggi. In questo simboleggia l'espulsione del veleno e della tarantola che colpiva le donne nei campi nel periodo di rinititura. Quindi noi oggi siamo qua proprio per espellere il veleno del patriarcato attraverso il ballo. Se non periciamo tutto, la nostra richiesta è un reddito di liberazione per aiutare tutte le persone vittime di violenza domestica con un sostegno economico concreto ed aiutarle a uscire dalle situazioni di oppressione. Stiamo chiedendo un reddito di liberazione per aiutare le persone vittime di violenza domestica. Stiamo portando la gioia. Non stai a fare il massaggio di cuore. Non stai a fare il massaggio di cuore. Mette tutte le grecce. Alla mattina. Ma se non ci fossero questi gruppati, ci hanno fatto una fascia così. Vedete? Vedete? Perché è bene. Grazie a tutti.